Distruggono i muretti a secco, rappresentano un pericolo per le città, rovinano colture e pascoli. I danni causati dai cinghiali sono sempre ingenti. Le associazioni di categoria ricevono ogni giorno chiamate di persone che vedono il proprio lavoro vanificato da ungulati e non solo. Parliamo di cinghiale ma parliamo di caprioli e daini, senza pensare soprattutto dalla parte più all'interno anche il problema del lupo. Quindi questo deve essere per noi e per la regione che chiediamo un aiuto importante, deve essere una priorità. Regione Liguria intende trovare una soluzione come dichiarato dall'assessore Stefano Mai in diretta a tv su Telepace, ma nel breve periodo sarà complicato. Credo che quest'anno andremo molto in difficoltà dopo la sentenza del TAR che ci obbliga a chiudere la caccia a metà dicembre. Generalmente andavamo fino a fine gennaio quindi penso che ci saranno enormi problemi. Mai spiega dunque di voler puntare sulla caccia di selezione che sino ad oggi sembra aver dato buoni risultati. Faremo un bando, ecco questa è la novità, un bando, una cosa nuova che ho inserito nel PSR esclusivamente per le recinzioni. Cercheremo di stimolare recinzioni compensoriali ma ci sarà anche la possibilità di attingere in modo singolo. Però non possiamo pensare di recintare tutta la regione Liguria, tutti i campi coltivati. Dobbiamo trovare delle misure che ci aiutino a contrastarlo maggiormente. Ora che i muretti a secco sono stati riconosciuti patrimonio dell'umanità UNESCO occorre davvero fare qualcosa per tutelarli. Le risorse messe in campo ad oggi, la regione stima 11 milioni di fondi per 100 km2 di muretti, tuttavia non bastano per tutti. Conto molto su questo riconoscimento UNESCO dei muretti per provare a fare dei programmi, partecipare dei bandi europei che ci portino delle risorse in questo senso. Però l'obiettivo è quello di riuscire a fare insediare aziende agricole sul nostro territorio che possano vivere dell'oro bene e che quindi possano prendersi cura del territorio stesso.